Buongiorno, allora per taggare il presidente, il ministro e Giulio Siamo Noi si fa in questo modo apro la mia pagina, questo è fatto da Giulio Siamo Noi ma io l'ho provato anche dalla mia personale e funziona in questo modo, si scrive il testo, ok poi per taggare Conte si fa così, Chiocciola Conte ecco, esce il suo nome, si clicca su, diventa blu, spazio il ministro Di Maio, il tag è Chiocciola Luigi Di Maio eccolo qui, compare, spazio il ministero degli esseri, bisogna scrivere questo esteri, ops scusate esteri e compare il ministero degli affari esteri della cooperazione per taggare Giulio Siamo Noi, Chiocciola Giulio Siamo no, noi, eccoci qui spazio e siamo taggati quando i nomi sono in blu vuol dire che sono attaccati poi si inserisce la foto, pubblica ed è fatto grazie grazie a tutti grazie a tutti